E siamo ritornati più forti che mai! Forse. Sapete che non mi ricordo che cavolo è successo l'ultima volta? Mi ricordo che ho provato a battere il mega ragno, che schifo! Ma senza successo. E mi ricordo che off-screen mi sono tolto la maledizione e forse sono salito di un paio di ribelli. Fammi vedere se... No, non posso, mi servono 10.000 anime. Certo! E mi fa male la gola. E quindi proviamo a vedere se mi ricordo come si gioca. Ecco, no, non mi ricordo come si gioca. Ho del muschio? Sì, ho del muschio. Mi sembra di averlo preso quando sono andato a... No, 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 no. No, ok. Però io adesso devo controllare, perché voi mi avete insultato da morire. Muschio purpureo riduce avvelenamento e cura veleno. L'altro è la tossicità. Io spero che questo sia il veleno, questo che non riesco a sorpassare. Dai, 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 che c'è la... Oh, 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 oh. Eh, ma qua... Eh, fammi smerdo tutto. Au. E mi sa che qua la tossicità me la devo subire. Eh, lo sapevo. Ok, sai cosa faccio? Io scappo fino a dentro le grotte e poi uso il muschio. Oh, cazzo. Dove? Eccola, 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 eccola. Questa è l'entrata, questa è l'entrata. Olè. Devo usare quello purpureo, beh? Oh. La soddisfazione di aver azzeccato il muschio. Oh, c'è un segno di evocazione. Ah, Mildred, mi sembra che Mildred... Eh, sì, esatto. È quel tizio che, sempre off-screen, ho battuto quando sono tornato dopo la maledizione. C'era lui, mi ha invaso e io l'ho battuto. Vieni, Mildred, andiamo a farci due bistecche. Bel vestito. Che schifo! Che schifo! Mildred! Dai, però! Cosa fa? Oh, le mie anime vecchie! Pa, 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 pa! Oh! Gesù! Quanta vita! Mi devi togliere per un colpo del genere. Però con sta lava io non riesco a colpirlo. Mildred! Non mi morire però, aspetta, fammi... Dai, due colpi! Ovviamente, per sbaglio mi ha colpito. Ma guarda che stronzo. Tiragli due colpi, tiragli! Eh, ma con sta lava però ha un po' fastidio, eh. Vai che sta attaccando lui. Bam! Bam! Via! Che non posso neanche parlare tanto che... Au! La mia gola fa malissimo. Io e la mia gola ti uccideremo! Tiè! Bam! Vai, vai, vai! Su tu, su tu! Oh! Ah, no, 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 no! Cura... Mildred! No! No, ti prego! Ti prego! Gli manca niente! Yes! Yes! Sì! Alla faccia tua! Ho battuto un ragno! Ho battuto un ragno! Non dovevo esultare così forte perché adesso la mia gola fa male! Però sono contentissimo! Mildred non ti dimenticherò mai! Soprattutto i vestiti! E si va avanti! Sperando di non morire con 27.000 anime sul gruppone! Eh, permesso? Signora! Controllo del gas, signora! Wow, presentazione! La seconda campana! Oh, la seconda campana! Finalmente! Quella dove c'erano i gargoyle è la prima! E io ho suonato la seconda! Oh, cazzo no! Ah, no, ha solo aperto un cancello! Meno male! Ok, ehm... Allora, devo tornare indietrissimo! Però non so se c'è un altro posto dove tornare! Se devo farmela a pedania come al solito! O se c'è... No, c'è questo! Che io però ho paura di sapere dove mi porterà! Ehm... Ci provo! No? Niente? Oh, forse devo andare di qua? Perché ha questo colore incredibilmente fastidioso per la retina! Dove cazzo sono finito? Però c'è un falo! No, però... Non mi conviene! Siccome io mi sa che devo tornare... Non so se andare avanti a tornare! Non so se devo andare avanti a tornare! Ehm... No! Sai cosa faccio? Io me ne torno! Da qua, l'altra volta, ho sbloccato... Un passaggio... Ah, aspetta, aspetta, aspetta... No, le anime me le tengo che magari mi potenzio ancora l'alabarda! No, però mi serve la titanite grande, mi sembra, per l'alabarda! Di qua ho sbloccato un passaggio... Per... Un... Il falò... Quepepepepepepe! Non ti baggare! Per tornare un pelo indietro! Era... No... Non era di là! Era di... Qua... Non mi ricordo dov'era! No, sorry! Non barighet tampone! Siamo alle rovine di Petit Londo! Di qua c'era l'ascensore che mi aveva fatto baggare l'altra volta, che in realtà prendendolo, senza farmi baggare, speriamo... Che non mi faccia baggare! Sto incrociando tutte le vite, anche quelle dei piedi? Please, please! Oh, 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 yes! E siamo di nuovo a sto benedetto santuario del legame del fuoco! Altro che legame del fuoco, mi ci dovrei sposare con sto santuario! E siamo qui! La guardiana del fuoco è assente, non puoi accendere il falò! Come? Che sia mica questa qua sotto? E non c'è veramente! Morta! Oh, Dark Soul, quanto sei birbante! E io vado avanti comunque, sperando di non morire? Di qua, se non ricordo male, si torna nella chiesa. E dalla chiesa si va... Oh no, dall'uomo cipolla! L'uomo cipolla è quello che avevo attaccato! Spero non mi abbia salvato la partita, perché dopo averlo attaccato ho fatto alt F4 per uscire dal gioco. Spero vivamente che non sia ancora incazzato quel pover'uomo. Ma qua ci sono i miei vecchi amici! Salve! Ma da quanto te... Eh, vabbè. Continuo ad avere problemi ad attaccarvi. Da quanto tempo? Ma ciao! Ormai vi one-shotto come delle schifezze. Ecco, perfetto. Guardalo! Vi hanno migliorati. Guardalo! Ma forditi! Non riesco a colpirlo mai! Ma non ci sto credendo! Ma muori! E io... Salirei di livello? Forza e vitalità. Frega niente. Mi faccio tank. Lo so, lo so che voi mi avete criticato lo stile di gioco perché... Si preferisce lo stile dello schive-attacca piuttosto che il pare-attacca. Però a me piace tankare, proprio prenderli di punta in faccia. Quindi mi sto buildando tank. Non c'è l'uomo cipolla. Non c'è l'uomo cipolla. Dove è andato? Fortezza di Sen. Miglior guerriero della vita, proprio. Oh, 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 oh! Oh! Visitors! Visitors! Si sono fatti malissimo! Come? Si stanno uccicchi... Perché è morto uno? Gioco! Gioco! Fammi capire cosa sta succedendo, però! Oh, funziona anche con voi, eh? Dai che appena ti uccido, mi ci faccio una borsetta. Eccolo qui! E vorrei sapere che cazzo l'ha ucciso lui. Era una trappola? Queste guardie si animano, no? Ok... No! Ed è diventato Pandemonium! È diventato un livello segreto di Crash Bandicoot! Ma porca! Oh! Wow! Mi è arrivato un robot addosso! Cos'era? No, non mi sparare! Manca solo quello che mi spara, manca! Lei venga qui che... È già un casino! Sì! Cadi! Yes! Vado adesso! Guarda la tempistica! Mamma mia! Mamma mia! Queste statue mi fanno impressione! No, 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 no! Ma c'ha quattro braccia! È un cobra con quattro braccia! No! Aia! Eh sì! Brock Lesnar è diventato! Madonna! Yes! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Aia! Ho dei palli della luce incastrati sulle spalle! Titanite grande! Due! Sì! Voglio potenziare l'alabarda fino a più mille! Non mi sembra sicuro questo ponte, corro! Iii! Bastardo! Oh! Ahahahahah! Ahahahah! Papara papara! Ma non ti ha fatto niente! Ciao! Ha il nemico e caduto si è spiaccicato! Oh! Guarda lì cosa c'è! Yao Yao! Sono un rapper di New York e canto nella G-U-N-E-T-B-I-C! Sembra veramente un rapper pronto per una... Vuoi fare una sfida freestyle? Ci sto, eh! Sto giocando Dark Soul e non sono molto bravo, però con il mio culo sono riuscito ad andare avanti... Yao! Quindi adesso con la mia alabarda ti giuro che ti spacco la tua faccia tutta tarda! Sto non ho che non sia diventato un rapper famoso, sono così fluido nel flow! Se, eh, ehm... Non so se ucciderti... Vabbè, senti! Bisogna che non mi fai niente io ti lascio andare! Ma questo è il livello di Super Mario! Ah! Questo è il livello di Super Mario... Del primo livello di Super Mario 64! Per arrivare in c... Cazzo, 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 cazzo! Passare per passare, la parte prima non è stata così difficile da fare, quindi io... Eh sì, è tipo... Ah! Che cazzo di spavento! Dai, imbecille, mi fai spaventare! Mamma mia, sono in gran forma! Mi fa male la gola, ma sono in gran forma! Ah! Ma cosa? Ma non ci sto credendo mai! Non ci sto credendo, non posso morire adesso, corri mia! E io vado su? È sbagliato, giusto? Andare su? È sbagliato! Oh! Era sbagliato. Cazzo! Oh no! Ma quello è l'uomo cipolla! Ma sta venendo per me, no! Perché l'uomo cipolla è contro di me? No, uomo cipolla! Oh no, 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 no! Mi sa che ho fatto casino, mi sa che ho fatto casino! Scappo, 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 uomo cipolla! Io vado sotto! Ciao! Ce l'ho fatta! E c'è una scala per scendere dalla pietra, però io vado di qua! No! Ahia! No, 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 no! Mimic, mimic! Che tu sia... No, dai, Mimic anche qui, no! Sono ovunque! Ma non hanno dei copyright, sti Mimic, che solo alcuni possono farlo? Quindi l'uomo cipolla è contro di me. Bene! Dato che non avevo già abbastanza casini!